Questa iniziazione in realtà era nata dopo un periodo cosiddetto mistico, perché dai 10 ai 14 anni avevo frequentato la chiesa, spinta da mia zia e da mia madre, la madre di tutte le mie disgrazie, come diceva Freud. E allora avevo imparato tutte le preghiere e mi autoconfessavo e mi auto-assegnavo la penitenza, cento avemarie, e ripetevo velocemente queste cento avemarie e così via. All'età di 14 anni, quando venne a casa nostra per la benedizione padre Eugenio, io gli feci una domanda provocatoria. Padre Eugenio, se è vero che la religione è l'oppio dei popoli, lei è uno spacciatore. Se ne scappò via per tutte le scale e non si fece più vedere.